Buongiorno a tutti, qua siamo ad Alberola in provincia di Saona, Alberola di Sassello e questa è la partenza stazione motrice di valle della sciovia ovviamente Monte Cucco che è una Fratelli Marchisio del 1970, quindi ovviamente è praticamente la prima che è stata costruita qui tralasciando quell'artigianale separato dal compressorio, ecco qua, qua c'è la stazione motrice, la puleggia e questo sarebbe il coperchio del motore, ecco qua i rulli qua c'è un pezzo di treno nasuto, qua le rulliere scardonate, tutto il scarnesso ecco qua la puleggia di rinvio e qua ci sono appunto i traini qua la linea di impianto anche abbastanza sepolta e vissuta nel bosco ecco qua la partenza appunto questa sciovia Monte Cucco è del 70 lunga e 375 metri a fronte di Sivello e 108 metri e andava a velocità di 2,5 metri al secondo con una portata oraria di 720 persone fu dismessa fino agli anni 90 insieme all'altra sciovia del 71 quindi costitano da voi questa, cioè la più lunga la Montevera era 2 la faccita è mia qua qua era Alina di cui ho pista ecco qua i leggendari traini nasuti di qua si raggiunge la sciovia Piazzonsole quella più corta del compensorio ecco qua e qui c'è il gabbiotto ci sono ancora vari componenti tipo quel che traino e poi c'è il reossato giusto ve lo faccio vedere se ne vale la pena l'avviatore è lo statico e eccolo qua e qua è il gabbiotto eccoci qui all'arrivo della sciovia Monte Cucco qui c'è la Monte Verera e ecco qui a valle c'è la stazione tenditrice qui c'è la stazione tenditrice qua pezzi di piattello faccio dare ecco qui la scritta non so se si vede si vede a fratelli Marchese ecco lì e qui ha scritta dove venivano prodotti quindi ecco qua Livorno Plastic ecco qua ecco qua qua la linea e lì bella alberolla di sassello mentre l'alberolla è la frazione appunto gli impianti mentre sassello rimane giù di qua e che dire questa qui è particolare perché la stazione tenditrice è come vedete al chiuso quindi un caso abbastanza raro ecco qua guardate qui qua c'è il vano diciamo dei contrapesi qui c'è il gaviotto degli impianti l'arrivo da Montevera due e ecco qua qua era la linea ormai nel bosco e qua le piste e laggiù si scruta proprio in lontananza lascio via Pian del Sole che sarebbe ecco lì il palo il baby Marchesio dell'85 poi la pista e qui c'è Savona sulla destra ecco qua l'impianto eccolo qui ecco qui i traini faccio vedere anche mi hanno detto la particolarità anche che la morsa come vedete è a sezione unica non a due sezioni come l'altro che di solito vedo anche degli albiski lift e Marchese ecco qui la stazione di Monte e io vi saluto da questa bella giornata di aprile di Pasqua e buona giornata a tutti a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.